Someone's got to do them dirty jobs Sto facendo partire la fresatrice! Ti faccio vedere come si fa, Mike. Ok. Guarda, la prendi, la metti giù e la spingi nella macchina. Le doghe sono assi grezze di cedro giallo, lunghe circa 4 metri e mezzo. La fresatrice leviga le assi in una certa misura affinché possano delire bene l'una all'altra. Servono circa 80 doghe per costruire una cisterna da 75.000 litri. Sei già un professionista, Mike. Grazie. In questa puntata di Lavori Sporchi faccio una cappatina nella grande mela. Prima di tutto per costruire e sostituire su un tetto una di quelle classiche cisterne per l'acqua per cui è famoso lo Skyline di New York. Il mio fondo è perfetto, a parte questa crepa gigante in mezzo. È una corsa contro il tempo in questo che uno dei lavori più rumorosi e più terrificanti... Ehi, amico, è pericoloso! Che abbia mai fatto?